Perdere la strada per ritrovarsi Non sapevo dove stessi andando finché non ci sono arrivato. Nel posto dove ti senti a casa È l'ultimo posto dove ricordo di essere stato felice. Solo allora può rinascere la speranza. Perché è così importante per lei che possa accadere una cosa simile? Perché è peggio? No, perché glielo dico io. Cos'è successo da fuori? Io scelgo di credere. Henry Pool. Lassù qualcuno ti ama. Venerdì alle 21, solo su cielo. Grazie a tutti.